Grazie Presidente, ringrazio preliminarmente i senatori Augustori e Pellegrini che insieme a me e alla senatrice Tesea in Giunta hanno approfondito questa vicenda studiando nel dettaglio le carte che ci portano oggi in Aula. Non dobbiamo e non vogliamo entrare nel merito di questa vicenda perché non spetta a noi farlo, non spetta a quest'Aula giudicare nessuno. Noi ci dobbiamo limitare ad alcune valutazioni di carattere strettamente giuridico previste dall'articolo 9 della legge costituzionale 1 dell'89. Sostanzialmente dobbiamo dare risposta a tre domande molto semplici. La prima, il Ministro Salvini era o non era nell'esercizio delle sue funzioni di governo quando ha portato le condotte oggi sotto l'esame di quest'Aula? La risposta è pacifica, certamente sì. Stava comportandosi da Ministro, stava nell'esercizio delle sue funzioni di Ministro e addirittura era nell'ambito di una decisione assunta da parte dell'intero governo, come ci è stato confermato più e più volte dalle dichiarazioni del Presidente Conte anche in questa stessa Aula, anche prima che uscisse la notizia che il Ministro Salvini era indagato. Quindi siamo pacificamente nell'alveo di una condotta ministeriale. Dobbiamo rispondere poi ad altre due domande. Se cioè il Ministro Salvini nelle sue condotte ha tutelato o meno l'interesse dello Stato costituzionalmente garantito, ovvero se ha tutelato un interesse pubblico. Queste sono le domande alle quali dobbiamo dare risposta. Quanto alla seconda e alla terza domanda dobbiamo, forse per dare una risposta compiuta, fare una valutazione che sia, diciamo, di merito, limitatamente come ho detto a queste domande, e poi di metodo. La prima valutazione di merito esiste, ed è un'affermazione la mia, una normativa di rango costituzionale, l'articolo 52 della nostra Costituzione, e una normativa legata alla legge ordinaria, l'articolo 4,3 del testo unico sull'immigrazione, che regolamenta l'ingresso nel nostro Paese di cittadini di altri Stati. Non è infatti possibile, per uno Stato di diritto, consentire l'accesso indiscriminato nel proprio territorio di cittadini che provengono da altri Stati. Questo è pacifico. Ed è dunque pacifico che chiunque, a partire dal Ministro dell'Interno fino all'ultimo dei pubblici ufficiali in servizio nel nostro Paese, abbia un preciso non solo diritto, ma direi dovere, di applicare la legge e di pretendere il rispetto delle disposizioni normative che prevedono che l'ingresso nel nostro Paese debba avvenire in determinate circostanze e secondo determinati presupposti. Nel merito, quindi, c'era sicuramente un interesse che è da valutarsi come pubblico, anzi vorrei dire un dovere che il Ministro aveva, di escludere dall'accesso nel nostro Paese cittadini stranieri che non avevano il diritto di entrare nel nostro Paese. Nel metodo dobbiamo però anche valutare se questa esclusione è stata bilanciata dalle circostanze e questo però mi porta a denunciare un equivoco che per anni è stato artatamente diffuso. Perché, amici, colleghi, è giuridicamente molto diverso il concetto di salvataggio in mare da quello di asilo perenne nel nostro Paese, perpetuo e indiscriminato. Se io incontro un ferito per strada ho l'obbligo giuridico di soccorrerlo, non di adottarlo. Su questa confusione di concetti si è inserita l'opera dei trafficanti di esseri umani che hanno negli anni costruito un sistema ben collaudato che costringeva il nostro Paese a equivocare tra questi due concetti e quindi ad accogliere indiscriminatamente persone. Qual era questo sistema? Mi piacerebbe che ciascuno di voi avesse avuto l'opportunità di leggere quei quattro faldoni di carte perché da quei quattro faldoni emerge con chiarezza questo sistema collaudato che ora finalmente è stato disarticolato per cui queste persone venivano caricate su barconi malsicuri che nessuna autorità preposta al controllo della navigazione mai autorizzerebbe all'uso in mare venivano portate in mezzo al Mediterraneo con una rotta precisa su Malta venivano accolte davanti alle acque maltesi da due motovedette e un aereo della Guardia Costiera che si premurava di dare loro la nuova rotta verso Lampedusa era una rotta precisa al millimetro al grado nautico e quando si arrivava in prossimità delle acque territoriali queste barconi immediatamente toglievano il tappo e dichiaravano l'emergenza così da poter essere soccorsi. Con l'emergenza poi venivano fatti sbarcare non appena fatti sbarcare ovviamente queste persone si dileguavano. Questo tipo di operazione costringeva lo Stato italiano ad essere con le spalle al muro cioè a scegliere tra il naufragio e la perdita di vite umane un mare oppure l'accesso indiscriminato nel nostro Paese. Questo sistema è stato disarticolato da una precisa politica che senza fare un solo morto, anzi salvando vite umane e sto parlando della decisione che è stata assunta dal Ministro ha permesso di distinguere le due fasi e questo non perché ci sia una volontà politica di chissà quale caratura ma semplicemente perché sono le stesse convenzioni internazionali che ho sentito citare in quest'Aula a sostegno della tesi di chi vorrebbe il Ministro Salvini a processo che dichiarano espressamente che le convenzioni SAR e SOLAS non si applicano leggo il testo perché dobbiamo rimanere in un ambito strettamente giuridico leggo le questioni diverse dal salvataggio relative a richiedenti asilo a rifugiati e allo Stato di migranti sono oltre il mandato delle convenzioni internazionali e oltre le finalità delle convenzioni SOLAS e SAR cioè in altre parole qual è l'obbligo del Ministro dell'Interno di salvare le vite umane ed è stato fatto perché il point of safety il place of safety non significa posto sicuro come qualcuno ha affermato non significa neppure porto sicuro significa posto in cui le persone sono in sicurezza e lo dicono sempre le stesse convenzioni che si assume siano state diciamo violate dal Ministro e siamo alla convenzione MSC 167-78 il punto 614 che dice testualmente che il place of safety può essere o la terra o anche a bordo di una unità di salvataggio qual era esattamente la nave 18 leggo may be a board and rescue unit allora i migranti che loro malgrado si trovavano a bordo della nave 18 già si trovavano al sicuro e la loro vita è stata soccorsa è stata messa in sicurezza sono state garantite loro cure mediche assistenza psicologica c'erano a bordo mediatori culturali e sono stati rifocillati e seguiti in tutto allora da una parte abbiamo l'interesse giuridico che lo Stato italiano ha di permettere che nel Paese entrino solo persone che lo possono fare e questo perdonatemi ma credo che tutti noi dobbiamo convenire che è certamente un interesse pubblico dall'altra parte non possiamo permettere di perdere vite in mare ma la domanda è si perdono più vite in mare autorizzando e chiudendo gli occhi su queste modalità anti-umane che sono state utilizzate per anni dai trafficanti di esseri umani che contando sull'emergenza cercavano in quel modo di fare sbarcare il loro carico pagante anche a prezzo di persone che sono affondate in fondo al Mediterraneo oppure paga più in termini proprio di salvaguardia di quella dignità della persona di quella salvaguardia delle vite umane il fatto di mettere in chiaro fin da subito che noi soccorreremo chiunque a differenza di quello che fa Malta non accompagneremo nessuno ad acque territoriali di chi che sia senza avere prima garantito la vita e la sicurezza ma poi garantiremo anche che le leggi del nostro Stato siano rispettate allora vedete signori colleghi il fascicolo è disseminato di atti formali del nostro governo che hanno cercato affannosamente direi di affrontare la crisi c'è una lettera del Presidente del Consiglio Conte datata 14 luglio che mette in allarme l'Europa sostenendo l'impossibilità per l'Italia di continuare a accettare questo traffico di migranti c'è una nota verbale del 19 agosto che proprio in relazione alla vicenda di Ciotti chiede che l'Europa sia coinvolta nella vicenda e che si dia luogo alla ridistribuzione dei migranti c'è una lettera del Ministero degli Esteri del 21 agosto che chiede nuovamente una riunione c'è una riunione preparatoria del 23 agosto sempre del Ministero degli Esteri c'è una riunione per il ricolocamento del 24 agosto il giorno prima dello sbarco tutto questo nel più totale naufragio questo sì di un'Europa che è scomparsa dall'orizzonte lasciando sola l'Italia salvo poi le chiedo ancora un minuto Presidente perché sono l'unico che interviene oggi per il nostro partito e quindi chiedo questo minuto in più salvo poi l'Europa a riapparire improvvisamente il 6 settembre con una nota che io pongo all'attenzione dell'Aula leggo siamo stati molto chiari nei mesi scorsi nel sottolineare che naturalmente quando serve la detenzione può essere utilizzata per facilitare l'identificazione dei migranti e per impedire che svaniscano anche durante le procedure di asilo abbiamo chiesto a tutti gli stati membri inclusa l'Italia di formire allo scopo centri di accoglienza adeguati che comprendano la detenzione così Tov Ernest portavoce della Commissione Europea per le migrazioni ma come? cornuti e mazziati prima spariscono quando sono da ricollocare i migranti quando poi li prendiamo in carico noi si lamentano perché non li abbiamo trattenuti e questi ovviamente se non sono andati in Europa questa è la situazione davanti alla quale il Ministro Salvini si è trovato ad agire e io sono persuaso e credo di averlo ampiamente dimostrato che il compito del Ministro fosse esattamente quello che è stato portato avanti e cioè nel preminente interesse pubblico nell'esercizio delle funzioni di governo garantire il rispetto dell'articolo 4,3 del testo unico dell'immigrazione garantire il rispetto di una linea politica concordata col governo decisa con gli italiani votata dagli italiani stabilita dagli italiani come linea per affrontare le questioni della immigrazione resta sullo sfondo e ho concluso Presidente la ringrazio di questo tempo supplementare una domanda oggi siamo qua con un Ministro sul Banco degli Imputati viene da chiedersi anzi con un intero governo sul Banco degli Imputati sotto processo per avere applicato la normativa italiana viene da chiedersi come mai non ci siano qua altri Ministri di governi precedenti che viceversa hanno disapplicato di fatto il testo unico sull'immigrazione e hanno consentito quella deportazione di massa che forse poteva essere evitata già qualche anno fa come abbiamo dimostrato è possibile evitare oggi forse sotto protesso dovrebbero andarci loro grazie 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 grazie